Il Sigillo Resort Sala Ricevimenti Poseidone vi aspetta per offrirvi la possibilità di celebrare il giorno più importante della vostra vita in un'atmosfera idilliaca e rilassante, garantendovi una cura minuziosa di ogni dettaglio e quel calore che solo un team di professionisti può garantire. La struttura dispone di un'ampia sala con una capienza di circa 400 commensali e che potrà essere allestita e decorata per soddisfare tutte le vostre esigenze. La struttura è circondata da un vasto giardino i cui profumi della macchia mediterranea si mescolano a quello degli agrumeti e vi offrono la cornice perfetta per organizzare romantici banchetti e cerimonie nuziali all'aria aperta nei mesi più caldi. Da anni il sigillo rappresenta un punto di riferimento nel campo della ristorazione e dell'ospitalità. Lo staff del resort curerà ogni dettaglio degli allestimenti e si prenderà cura di voi e dei vostri ospiti garantendo la perfetta riuscita del vostro evento speciale. Il vostro banchetto nuziale presso il sigillo resort sarà un tripudio di sapori e colori che l'esperto personale di cucina combinerà per creare il vostro esclusivo menù nuziale con ingredienti di produzione locale. Il sigillo resort è la garanzia per l'organizzazione di un matrimonio da favola.